Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Paolo Brosio, il giornalista televisivo che da tempo non calca le scene dello spettacolo, ha parlato di una tragedia che non si sarebbe mai aspettato. Un racconto scioccante. Ma cosa è successo? Paolo Brosio è stato negli anni un giornalista televisivo molto presente soprattutto negli anni 90. Finché non è stato illuminato sulla via di Damasco scoprendo la propria fede religiosa e dedicando la sua vita alla Madonna e divulgandone il verbo, a volte anche in televisione, ospite di alcuni programmi. Negli anni seguenti Brosio è parte del cast fisso di quelli che il calcio per quattro anni e inoltre ha partecipato a un'edizione dell'Isola dei Famosi inizialmente come inviato, nel 2006, e in seguito come concorrente nel 2019. Nel 2020 poi è stato anche concorrente del Grande Fratello Vip. Nel periodo in cui era concorrente del Grande Fratello Vip si venne a sapere che aveva una fidanzata, molto giovane, Maria Laura De Vitis. Tra di loro ci sono ben 40 anni di differenza e per questa ragione la loro storia fu molto criticata. Quando la loro storia è finita Maria Laura è intervenuta al Corriere della Sera. La loro storia d'amore è durata un anno. Paolo ha tentato in questo periodo di farla convertire alla sua fede. I due hanno fatto un pellegrinaggio a Meggiugorie, seguiti dalle telecamere delle Iene che avrebbero dovuto riprendere la conversione di Maria Laura, ma quest'ultima non c'è stata. Paolo sul settimanale Novella 2000, ha detto di lei, ha litigato con la fede perché a otto anni ha perso il padre. Era andata la mattina a dargli il buongiorno e ha scoperto che non respirava più. Per lei è stato un vero e proprio shock. Una situazione in cui non si è potuto fare nulla, ma che ha segnato profondamente la donna. Grazie a tutti.